Buonasera a tutti, bentrovati. La cornaca in apertura con una tragedia purtroppo che si è verificata nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 14 a Rescaldina, zona stazione. Sui binari purtroppo un uomo di 40 anni ha trovato la morte. Si presuppone che si tratti di un gesto volontario, ma le indagini affidate alla polizia ferroviaria sono in corso. L'uomo aveva 40 anni e risulta ferita, non in modo grave, una giovane di 18 anni. Inevitabili le ripercussioni sulla linea ferroviaria tra Rescaldina e la stazione di Milano Centrale, andata completamente in tilt. E sempre nella cronaca, ma tutt'altro argomento, quello che ci porta a Gallarate per un'operazione della Guardia di Finanza, un giro cosiddetto carosello di frodi fiscali per 50 milioni di euro. Una frodi internazionale per 50 milioni di euro di IVA e VASA, marito e moglie in manette, dopo un'indagine diventata internazionale, ma partita dalla Guardia di Finanza di Gallarate. Dalla Moldavia a Malpensa, diverse le società coinvolte, importate oltre 3 milioni di componentistica informatica, 13 le imprese nazionali e una essere invece gestite di fatto da uno dei due coniugi. Parliamo di frodi carosello, ovvero di un meccanismo fraudolento internazionale che sfrutta società che importano beni dai paesi europei e li rivendono sul territorio nazionale ad un prezzo sotto costo. Al momento dell'arresto, i due indagati erano in possesso di numerosi smartphone utilizzati per le operazioni di home banking e di documentazione relativa alla costituzione di nuove società utili alla frode. E sempre di cronaca parliamo affrontando una notizia che ha dell'incredibile per il fastidio che provoca, diciamolo chiaro e tondo. Ha aggredito, spintonato, preso a pugni, derubato del cellulare un passeggero ipovedente. Ora questo signore, in realtà molto giovane, di 19 anni, si trova in carcere ai Mioni con l'accusa di rapina aggravata. Appunto, è molto giovane ma ha già diversi precedenti, questo ragazzo che venerdì scorso nella stazione di Varese è salito sul treno in partenza per Milano e se l'è presa con un uomo quasi cieco, quindi palesemente vulnerabile. Lo ha spintonato, lo ha fatto cadere, lo ha picchiato sulla schiena, tutto per rubargli il telefonino. Aiutato da alcuni testimoni, quest'uomo ha contattato la polizia ferroviaria che si è messa a caccia del rapinatore, trovandolo ancora nel perimetro della stazione. È stato naturalmente arrestato, con sé aveva anche 76 grammi di hashish, perciò è stato anche denunciato per detenzione a fini di spaccio. Veramente una violenza incredibile. A Buster Sizio, ancora per un fatto di violenza, che in questo caso riguarda una donna maltrattata dal proprio compagno. Lui è un ucraino di 53 anni, che adesso è stato denunciato per violenze ed è stato anche allontanato da casa, peraltro casa della donna, che esasperata dalle continue violenze subite, spesso la sera quando quest'uomo ucraino tornava a casa ubriaco, gliel'ha lasciata, lasciata l'abitazione per rifugiarsi a casa di alcuni conoscenti. Ha raccontato tutto alla polizia, che adesso appunto gli hanno intimato di non avvicinarsi più né alla casa della donna, che ne è tornata in possesso, né ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Speriamo naturalmente che sia sufficiente. Poi torniamo al convegno di ieri, quello che ha visto protagonista a Canton Ticino e governo italiano, sono Norman Gobbi e Ministro Giorgetti. Andiamo a interloquire con il primo, che oltre a quello che già vi abbiamo raccontato ieri, ha detto molto altro al nostro microfono. Sentiamolo. È vero che l'area dell'Insubra è omogenea, densa di sinergie, è vero anche che la non appartenenza svizzera all'Unione Europea, qualcuna di queste sinergie, può frenarla. Ci fa al momento la fotografia? Diciamo che nell'ambito della collaborazione istituzionale funziona bene, proprio perché sia con la regione Lombardia che con la regione Piemonte, Canton Ticino trattiene ottimi rapporti. È vero che abbiamo due sistemi economico-amministrativi poco compatibili talvolta, perché evidentemente non è solo l'aspetto doganale, che è molto più, diciamo così, percettibile quando si passa la frontiera, ma anche il sistema amministrativo e politico ed economico sono comunque potenzialmente una barriera. Ed è quello che cerchiamo di fare anche nell'ambito della regione Subrica, di superare queste barriere con tavoli tecnici che mettono al tavolo rappresentanti lombardi, piemontesi e ticinesi nell'affrontare i vari temi, dal mondo del lavoro alla gestione faunistica, a una promozione territoriale che deve essere fatta in comune. Sa che dal punto di vista lavorativo il Canton Ticino fa paura perché attrae molto per stipendi più vantaggiosi. Ci dica qualcosa che rassicuri l'economia e l'impresa di questa parte del confine? Diciamo che è un problema continentale quello della ricerca di manodopera qualificata ed è un problema che si riscontra in tutte le zone d'Europa che sono motori economici, quindi sia a nord delle Alpi ma anche a sud delle Alpi, nel nostro piccolo triangolo del Canton Ticino e della regione Lombardia. Credo che qui debba esserci davvero una presa di coscienza da una parte che il lavoro deve essere salariato correttamente ed è per quello che il Canton Ticino ha introdotto anche dei contratti normali di lavoro per proteggere alcune fasce di manodopera indigena ma anche per evitare che vi sia la speculazione sui lavoratori frontalieri. D'altra parte abbiamo inserito anche un salario minimo legale proprio per tutelare tutto il mondo del lavoro perché alla fine non dobbiamo pensare che i frontalieri sono sfruttati in Canton Ticino, vengono ben pagati proprio perché abbiamo bisogno di manodopera. Il nuovo accordo fiscale Italo-Svizzero aiuta in quella direzione? Uno degli obiettivi era anche quello di rendere meno interessanti di lavorare in Canton Ticino con un prelievo fiscale superiore, speriamo che questo possa avere un effetto anche per evitare che vi siano situazioni poco, diciamo così, opportune in cui c'è una scelta di lavorare magari in Ticino trasferendo uno a uno delle attività e purtroppo riscontriamo spesso anche dei finti indipendenti o delle finte aziende, quindi delle bucalettere che servono aziende italiane per operare in Canton Ticino aggirando quello che sono le normali normative per il lavoro di staccato. E nello stesso contesto abbiamo ascoltato anche la voce critica di Massimo Mastromarino, che è sindaco di Lavena-Ponte-Tresa ma è anche presidente dei sindaci di frontiera, chiamiamoli così, e che è molto critico nei confronti del governo sul fronte dell'accordo fiscale e del contributo alla salute. Governo troppo timido e un balzello che ci spiazza. Questa, secondo Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena-Ponte-Tresa e presidente dei comuni di frontiera, la sintesi del nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera almeno su due aspetti, il lavoro a distanza e il contributo salute. Quanto è stato fatto fino ad oggi sul telelavoro è troppo timido, è troppo poco, i nostri frontalieri si aspettano di più. Quello che si vuole fare, ma spero che il dibattito parlamentare modifichi questo con il contributo al sistema sanitario, dal mio punto di vista, ma penso di interpretare il pensiero di tutti i frontalieri, non va nella direzione giusta perché non si sono costruite le condizioni a monte per l'applicazione di una norma di questo tipo. Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale oscillerà tra il 3 e il 6% del salario netto con un'aliquota che verrà fissata dalla regione. Se il nuovo accordo ha costruito il perimetro fiscale al quale devono essere sottoposti i frontalieri, non è corretto oggi, a valle dell'accordo, un lungo accordo come è stato raccontato, infilarci dentro questo balzello che comunque sarà impegnativo per i frontalieri. Io mi auguro davvero che si possa fare sintesi e all'interno del dibattito parlamentare si possa correggere questa misura che dal mio punto di vista non funziona né nel metodo né nel merito. Voltiamo pagine, andiamo a parlare di una bella iniziativa di rilancio turistico, ma anche di educazione, di cultura, di formazione. I protagonisti ancora una volta sono i ragazzi dell'Isis Valceresio di Bisuschio, una delle scuole più dinamiche e frizzanti del nostro territorio. Vediamo. Un disegno per Varese, un biglietto da visita fresco, spigliato, fantasioso, come solo i ragazzi sanno fare. Sono le nuove frontiere dell'alternanza scuola-lavoro, oggi ribattezzata percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ma comunque votata al coinvolgimento diretto degli studenti nell'architettura del rilancio. Lavorare con le scuole, con il mondo della cultura è molto stimolante, è uno dei nostri plus, delle nostre competenze e quindi ci crediamo molto, siamo molto soddisfatti. Scaturita dal bando Project Work di Camera di Commercio, l'iniziativa trova impulso nell'Isis Valceresio, una delle scuole più dinamiche e frizzanti del Varesotto e la partecipazione dell'ente bilaterale. capofila l'hotel Horizon, che insieme agli altri alberghi della provincia proporà ai clienti questa brochure, un po' fumetto, un po' guida turistica, un po' dichiarazione d'amore al territorio. Questo progetto è stato una vera e propria sfida, sia come classe che come singoli, perché si trattava non solo di esporre le nostre capacità al meglio, ma di acquisirne nuove. Ed è stata una serie di scelte durante questo percorso, come la scelta del personaggio, il modo di raccontare la storia. È stato un percorso istruttivo e da qui abbiamo guadagnato molto. E ora a Caciago per gustarci le papille, insomma almeno in termini previsionali, perché 10, 11 e 12 novembre sono le date in cui il Riso Carnaroli torna protagonista in una decina di agriturismi. Riso Carnaroli è ancora protagonista della Tre Giorni di Terra Nostra, con nove agriturismi in provincia di Varese che il 10, 11 e 12 novembre si cimenteranno nella preparazione di deliziosi risotti. Questa iniziativa sul territorio di Varese ha sempre avuto un ottimo riscontro, quindi gli agriturismi sono veramente entusiasti di riproporsi. Anche perché parliamo di un prodotto di qualità con un marchio riconosciuto, quindi dal Pavese al Vare Sotto. Un'iniziativa che guarda la marcia in più del Carnaroli e le squisitezze lombarde declinate nei vari territori, compresa Como. La sinergia tra le imprese agricole e gli agriturismi è in volta la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Terra Nostra rientra nella galassia col diretti ed è legata a doppio filo con chi come campagna amica garantisce la presenza delle tipicità nei mercati del territorio. Come campagna amica siamo presenti sui mercati di Varese, Gallarati, Induno e Masnago con produttori che vendono il Carnaroli. Su fronte della solidarietà vi raccontiamo la bella domenica trascorsa sotto il sole di Bodio Lomnago da Andos, associazione in prima linea contro il tumore al seno che stringe alleanza con altre associazioni per far sì che la prevenzione sia anche motivo di incontro e di festa. È accaduto anche a Villa Pulicelli. Giornata di sole, bolli di affascino storico a Bodio Lomnago dove la lunga marcia di Andos contro il tumore al seno trova alleati, proseliti e sostenitori proseguendo una battaglia cominciata nel 1987. Da allora ancora oggi noi facciamo diversissime attività proprio per aiutare la donna a ritrovare se stessa nella forma fisica e psicologica. Location ideale Villa Pulicelli intitolata al fondatore della prima autostrada del mondo. Noi siamo qui a Villa Pulicelli che è stata la sua casa e da qui infatti parte il primo tratto dell'autostrada e l'anno prossimo appunto saranno i cento anni dell'autostrada. In scena il Varese ha auto motostoriche sempre pronto a sfoggiare i suoi gioielli soprattutto quando la componente estetica sposa quella solidale. Ultimo appuntamento a novembre le solite mitiche in piazza sempre un evento incredibile dove riempiremo la piazza della Repubblica. In fondo la solidarietà è un fiore dai molti petali. l'importante è lottare insieme senza lasciare indietro nessuno. Andos è anche questo per cui siamo lieti di accogliervi sempre e di essere accolte nelle manifestazioni locali, cittadine e territoriali a servizio della gente. Adesso invece andiamo a parlare di arte di cultura declinata però in termini di forte, urgente attualità perché in una mostra visitabile a Bustrasizio si parla di guerra e inevitabilmente si invoca la pace. Prendi ispirazione dai recenti conflitti la mostra Non c'è pace in corso fino al 19 novembre allo spazio arte Carlo Farioli di Busto. Un'esposizione toccante che presenta interpretazioni pittoriche di Vittoriano Farioli accanto a opere fotografiche di diversi autori provenienti dalla collezione Afi. Scatti che intendono far riflettere sulle cause e le conseguenze degli eventi superando il limite di ciò che viene detto e scritto perché crudelmente sinceri. Anche Farioli scuote l'osservatore con una serie di segni, colori e sfumature spietati davanti ai quali è impossibile non stupirsi e domandarsi perché non c'è pace. Non è tanto la guerra guerreggiata perché non mi interessava. Era purtroppo quello che rimane dopo un bombardamento quello che rimane la disperazione umana sostanzialmente. A mie spalle abbiamo allora c'era Mario Pol che ha ricevuto un bombardamento incredibile e mi sono immaginato la disperazione di queste tre donne che si incontrano per strada e non hanno più nulla non hanno più nulla e cominciano anche a sciogliersi loro si sciolgono in una disperazione che solo chi, chi, chi ha provato un bombardamento penso provi. Natale a Bustorassizio restiamo in città ma per parlare delle feste che verranno e verso le quali inizia un lungo ma forse non troppo lungo percorso di avvicinamento pensato soprattutto per i più piccoli lo ribadisce il sindaco Antonelli che ritiene che mai come quest'anno le festività servano per rallegare il cuore dei bambini poi andiamo a parlare di Natale nell'ottica dei commercianti Alla presentazione di B.A. Natale è stato detto che quest'anno il vero Babbo Natale è il sindaco Sì, è stato detto così mi piacerebbe esserlo veramente per poter aiutare tante persone che in un momento di difficoltà come questo però a parte gli scherzi io ci tengo a questo Natale e l'amministrazione ma anche tutti i commercianti hanno investito tanto su questo Natale si può dire che magari non era il caso ma invece dico proprio perché quest'anno è mai come quest'anno è il caso di fare un Natale bello e perché? perché noi abbiamo lasciato un mondo stiamo continuamente lasciando un mondo pessimo ai nostri figli ai nostri nipoti viviamo in un mondo terribile e chiaramente la colpa è solo nostra ecco allora diamo qualcosa anche a loro loro tutti i giorni sentono notizie sconvolgenti sicuramente nella loro testa qualcosa rimarrà lasciamo che per almeno un mese possano vivere tranquilli possano vivere nella bellezza del Natale che è il momento per i bambini forse più importante ecco tutto qua abbiamo voluto investire per i bambini dopo gli anni difficili della Covid della crisi energetica Bustarsizio torna in grande il Natale sì 44 giorni di Kermes natalizia più di 400 luminarie installate per tutta la città sia nei quartieri che in centro e tantissime cose dedicate ai bambini la novità di quest'anno è il Babbo Natale che viene da sotto che sarà messo in via Milano al posto dell'albero di Natale che sarà sicuramente l'attrazione principe per tutti i bimbi sia di Busto che dei paesi limitrofi 12 fermate di trenino con tanto di audioguida per conoscere la città un po' più a fondo useremo il Natale per promuovere Bustarsizio peraltro gettonatissima anche la pista di pattinaggio forse la più grande della provincia di Varese sì esatto le scuole hanno già prenotato quindi tutte le mattine o quasi della pista di pattinaggio sono impegnate per le lezioni di pattinaggio su ghiaccio delle scuole superiori di Bustarsizio 370 metri di pista non sono poco e sarà anche bella esteticamente proprio in tema con il Natale speriamo di dare tanta gioia e tanta spensieratezza in questo momento che non è certo un momento facile pagina sportiva che apriamo con i nuovi acquisti di Pallacanestro Varese presentati poche ore fa vediamo giornata di presentazione in casa Pallacanestro Varese con la società Biancorossa che dà il benvenuto ufficiale alla nuova coppia di dirigenti dal grande passato NBA composta da Zach Sogolov e Maxim Orovitz Sogolov avrà il ruolo di General Manager of Basketball Operations molto più concentrato ed operativo sul lato campo mercato e gestione della squadra mentre Orovitz sarà General Manager of Basketball Strategy più incentrato sulla gestione delle analytics passato NBA per loro dicevamo visto che entrambe hanno lavorato negli uffici della Lega Sogolov ha poi lavorato in fila del FIAS 26ers mentre Orovitz agli Atlanta Hawks il calcio il calcio con i risultati che già vi abbiamo raccontato ma che andiamo ad analizzare per le nostre squadre il pareggio genovese contro il Ligorna non può soddisfare un Varese che deve trovare il più presto gole con intimità di risultati per non perdere il treno di testa sotto la prima occasione con l'Az Miracoli per trovare il pari Biancorossi hanno dovuto costruire tante e troppe occasioni prima dell'1-1 di liberati per stare lassù serve maggior cinismo cinismo e capacità di soffrire che la Varesina ha dimostrato di avere con il Desenzano un super vitale gole due assis per Manicone Gasparri ha trascinato le Fenici al 3-2 che vale almeno 5 della capolista a Legnano sembra funzionare la cura Zattarin ma la goda al dischetto e i becchi di testa piegano il Ponte San Pietro per la seconda vittoria consecutiva senza subire reti sconfitta in dolore per la Castellanzese che cede la corazzata pro palazzolo ma continua a dimostrare ottimi segnali di crescita dopo una via difficile infine la pallavolo con una convincente vittoria della Wiba Desiderata sudata e oggi la prima vittoria è anche arrivata la Wiba ha rotto finalmente gli indugi andando a centrare il primo successo in questo campionato stava diventando un calvario per la squadra di Julio Velasco dopo 5 sconfitte consecutive e senza gioie troppo presto per decretare la fine della crisi e per mettere in soffitta la brutta partenza ma è un primo segnale forte di come la crescita tecnica e mentale di questa giovane formazione biancorossa abbia iniziato ad ingranare grande prova quella di Martina Bracchi che si è messa in tasca a 17 punti oltre al titolo di MVP ma è la prestazione di tutto il sistema di gioco ad aver convinto sbloccarsi era fondamentale adesso da lì si può anche provare a risalire prima di chiudere il palinsesto di Rete 55 in serata alle 21 un film una canaglia da abbattere tra i protagonisti lo vedete alle mie spalle l'inconfondibile Tony Curtis poi alle 23.30 tornano le avventure di Evaluna grazie a tutti buona serata grazie a tutti